Le donne uccidono le donne di Enrico Fierro. Ci sono delle case, degli oggetti, dei luoghi che per la loro natura, il loro aspetto, la vita che vi è raccolta e condensata, i ricordi che vi si intrecciano e talvolta anche soltanto il suono di un nome, diventano ai nostri occhi le immagini obiettive di una situazione, di una vicenda, di un'istituzione o di un concetto e finiscono con l'identificarsi con quelli come fossero le loro forme reali, la loro proiezione esterna, la loro completa immagine poetica. Quando Michele Pantaleone chiese a Carlo Levi di scrivere la prefazione di Mafia e Politica era il 1962. Levi aveva negli occhi Villalba e la sua piazza, il paese feudo di Don Carlo Vizzini. Le sue case, le terre, fin anche i suoni e gli odori gli parlavano di una realtà di mafiosi e di eroi, di vittime e carnefici, del potere dei boss e di un'opposizione civile che spesso pagava col sangue la scelta di essere dall'altra parte, quella dove si riuniscono gli onesti. Villalba, Corleone, Africo, San Luca, Ottaviano, Casal di Principe, nomi di paesi del sud, con le loro piazze, le strade, gli odori, i racconti di mafiosi e onesti, malacarne e brava gente. Film, libri, cronache quotidiane hanno fatto diventare i loro nomi familiari alla maggioranza degli italiani, che sanno abbinare a ogni luogo il nome di un padrino, di una famiglia, di una cosca o di un'andrina, che ricordano, come se fosse una data da sussidiario della storia patria, gli anni e i giorni delle varie guerre.